Tutta colpa di Freud, le anticipazioni. A partire da mercoledì 1 dicembre andrà in onda su Canale 5 la serie tv Tutta colpa di Freud. Nella programmazione Mediaset prenderà quindi il posto della fiction Storia di una famiglia per bene con Simona Cavallari e Giuseppe Zeno. La serie tv è ispirata al film che andò in onda nel 2014 dove il protagonista era interpretato da Marco Giallini. Stavolta il personaggio principale sarà Claudio Bisio. Accanto a lui recitano Max Tortora, Claudia Pandolfi e Stefania Rocca. Il protagonista è uno psichiatra ed è padre di tre figlie. È separato da 10 anni ma soffre ancora molto per la separazione dalla moglie e anche le figlie ne soffrono, soprattutto la figlia di mezzo. Anche loro infatti non vedono la madre da diversi anni. Pensa di potersi godere un po' di tranquillità visto che tutte e tre le figlie sono uscite di casa. La figlia maggiore vive da 5 anni da sola, la figlia di mezzo vive in albergo insieme al suo fidanzato e si sta per sposare e la figlia più piccola sta per partire per l'Inghilterra. Le cose però non vanno come previsto. Infatti la figlia più piccola all'aeroporto incontra un uomo che ha un'agenzia pubblicitaria e che è alla ricerca di influencer. La ragazza è molto brava con i social e lui le propone di passarlo a trovare in agenzie dove può offrirle un lavoro. Alla fine decide di non partire per l'Inghilterra, vuole provare a costruirci un futuro in Italia. Anche la figlia di mezzo entra in crisi e tornerà a vivere con il padre. Percepisce molto l'assenza della madre e la invita al matrimonio, ma la mamma non si presenta neanche in quest'occasione. Inoltre è confusa, non sa se è davvero innamorata del suo fidanzato oppure no. A metterla in crisi è l'organizzatrice del matrimonio. Si sentirà attratta da lei, ma nonostante questo non vuole mettersi in discussione, nonostante suo padre la incidi a farlo. Ovviamente la crisi non può non esserci anche per la figlia maggiore. Lavora da anni come assistente e ha una relazione con il professore associato della cattedra. Vuole partecipare a un importante progetto, ma i fondi vengono destinati ad un altro assistente, raccomandato. Anzi, il progetto che lei aveva fatto le viene rubato. Tutto questo la manda in crisi, anche perché la casa dove viveva era una casa di proprietà del professore, a cui lei pagava l'affitto. Decide quindi di lasciarla e di tornare a vivere anche lei con il padre. La serie tv, che andrà in onda a partire da mercoledì prossimo, è già disponibile da qualche mese su Amazon Prime. Grazie a tutti.